Giro di boa per Renato Curiangolano e Avezzano che si affrontano nel match valido per la prima giornata di ritorno del format di eccellenza. L'andata Casati e l'autorete di Mucciante divisero la posta in palio. Adesso i punti iniziano a scottare ed è necessario non perdere altro terreno da Chieti e l'Aquila. Sotto il sole di Città Sant'Angelo fischia Paul Ieucumere dell'Aquila. La temperatura quasi estiva non permette un decollo immediato della gara. Al decimo Blanco tenta dal limite, blocca Puddu. Il portiere 2003 sarà protagonista poco dopo. Contatto, pendenza, Mucciante, calcio di rigore per l'Avezzano e cartellino giallo per il difensore di casa. Dal dischetto si presenta lo stesso pendenza ma Puddu è strepitoso e blocca il pallone a terra. La circostanza positiva gasa i ragazzi di De Eugenio oggi in tribuna. Criscolo servito da Buffetti rientra sul destro e calcia. Riflesso super di Di Girolamo che respinge col piede. E il preludio al gol del vantaggio, punizione fantastica di Cichella che prende un giro beffardo e supera l'estremo difensore marsicano. Una zero angolana e gioia per il difensore centrale che mette la firma su una prestazione già positiva. I nerazzurri potrebbero anche allungare il punteggio ma l'inzuccata di Mucciante fa solo la barba al palo. Nel finale di tempo show di Braghini che ne salta tre pendenza e Blanco non concretizzano lo slalom del compagno. Col montaggio di Mario Giacchetta passiamo alla ripresa. Lavezzano rientra subito forte. Invenzione di Braghini colpisce a colpo sicuro Pelino ma c'è segnalazione di fuorigioco. L'angolana va vicina al raddoppio ma ancora di Girolamo si esalta sull'inzuccata di Buffetti. Gli sforzi della truppa di Torti vengono ripagati al diciannovesimo dialogo sontuoso tra pendenza e Blanco. Il numero 11 di testa appoggia il pallone del pareggio. Reazione immediata dei padroni di casa con il neo entrato festa sfera che termina fuori di un soffio. I marsicani sembrano però avere più benzina nelle gambe. Laguzzi calcia dal limite errore di Puddu che calcola male e Avezzano in vantaggio con il gol del classe 2002. Angolana che accusa il colpo e i lupi mordono ancora con un altro ingresso dalla panchina. Castro che di testa raccoglie un angolo al bacio di Vincenzi. Nel recupero Ica anticipa Puddu ma non inquadra la porta. Termina 1-3 al Petruzzi di Città Sant'Angelo. Una bella prova di forza per l'Avezzano. Un passo indietro per il secondo tempo dell'arenato Curi-Angolana.